È una solennità meravigliosa, fondamento e cardine della Chiesa che è in Roma, e la Chiesa che è in Roma è la quale presiede nella carità, è la Chiesa Madre. Per questo è una festa che è al cuore della Chiesa, e che parla al cuore della Chiesa, dove il Signore ci ha chiamato, la Chiesa che il Signore ci ha donato. A te darò le chiavi del Regno dei Cieli. Tutta la parola di questa mattina, di questa solennità nella messa della mattina, del giorno, è incentrata in questo annuncio, questo annuncio potente, l'annuncio del Cielo. Rivela a tutti noi la missione principua, fondamentale della Chiesa. Ce la dimentichiamo spesso. A noi è stata data la possibilità di accedere al cielo, cioè di tornare a casa. Tutti noi possiamo tornare a casa, il giorno che il Signore ci chiamerà da questo mondo. Ma anche oggi, in ogni momento di difficoltà, dove incombe la morte su di noi, dove incombe la notte, incombe l'angoscia, la paura. Nel Salmo responsoriale del versetto, il Signore mi ha liberato da ogni paura. Quello che dice San Paolo, ho combattuto la buona battaglia, ho mantenuto la fede. La fede in che cosa? In questo che ha proclamato Pietro. Tu sei il Cristo, tu sei il Messia, tu sei il figlio di Dio, del Dio vivente. Non un Dio ideale, non un totem, non una proiezione dell'uomo, non una costruzione filosofica, non qualcosa che possiamo sentire, un'energia, tutto quello che è nelle varie religioni. No, un Dio vivente, il Dio che è apparso a Mosè. Io sono colui che sono, che non ho passato nel futuro, che sono ora, perché questo ora è il mio essere. Costituisce il mio essere, ora, in un'ora che non ha né inizio né fine. E noi siamo attirati di nuovo in questo eterno, in questa eternità, in questo cielo, che è l'eternità, che non ha inizio né fine, cioè, molto spesso noi pensiamo male anche del nostro destino, perché? Il nostro destino celeste, perché? Perché pensiamo che quello è passato a miglior vita, è entrato nella vita eterna, perché se è eterna non è che inizia poi quando uno muore, no? Non sarebbe eterna, avrebbe un inizio, senza fine, ma comunque avrebbe un inizio. E questo è il concetto profondo, antropologico, che abbiamo tutti noi nella Chiesa. Noi siamo degli esuli, tutti noi siamo degli esuli sulla Terra. Cioè la condizione dell'uomo è quella di un esule, di un orfano, il figlio prodigo, che ha perduto la sua casa, Adamo e Eva, ha perduto la relazione intima con suo padre, che è il Dio vivente, che è la vita, che non muore. La vita che riempie, di senso, ogni cosa che noi facciamo. La vita, così come Dio l'ha pensata per tutti noi, descritta nei capitoli della Genesi. Che siamo noi, a immagine di somiglianza di Dio, in ogni cosa che facciamo, dal lavare i piatti, al fare l'ultimo servizio della casa, allo studiare, all'entrare anche nella malattia, ma in una forma diversa. Per questo dice, mi hai liberato da ogni paura. Perché dice la lettera agli ebrei che l'uomo vive schiavo della paura della morte. E questa è la realtà di tutti noi. Ad ora si capisce perché Dio si è fatto carne, dopo al culmine, nella pienezza dei tempi, nella pienezza di questa vita eterna che irrompe di nuovo nel mondo. Che il demonio ha tentato di fare finito. Tu ti fai Dio e automaticamente perdi Dio. E quindi ti ritrovi uomo. Creatura limitata. Che all'inizio e all'inizio e all'inizio. Che vieni da un'evoluzione della specie. Sei una delle specie, forse la più evoluta, ma non sei nient'altro. Fino a questo carpe diem. Per cui tu sarai concime. Per questo cogli ogni occasione. Vivi ora. Fai qualcosa di grande perché è ora e non più. È quello che vivono oggi. La maggior parte delle persone. Oggi. Domani. Non c'è. Se muovi, finisce tutto. Ma questo è un ragazzo giovane. 12-12 anni. Per questo già le relazioni con le ragazze. Le droga. Sul lavoro. Fino all'egoismo più totale. L'egoismo più totale. Tutte le deviazioni sessuali. Teoria di genere. Eccetera. Vengono da questo. Da questo carpe diem. Per cui devo dare un senso alla mia vita ora. E questo posso essere oggi maschio. Domani femmina. Domani un'altra cosa. E voglio che questo sia stabilito come diritto. Il diritto al nulla. Il diritto all'effimero. Il diritto a ciò che non è vero. A ciò che non è autentico. Il diritto a ciò che termina. Il diritto a schiantarmi contro un muro. Perché questo è il mio destino. E invece a noi il Signore ci ha chiamati. A entrare nella Chiesa. Dove? La porta. È aperta sul nostro destino. Il resto è Pietro. È aprire di nuovo davanti al mondo. Davanti alle persone. Davanti a tutti noi. La porta del cielo. Questo è il sacramento del battesimo. E questo è il sacramento della confessione. Fondamentale. Non a caso è in crisi il sacramento della confessione. Questa crisi del sacramento della confessione. Cioè di non avere più ormai nessuna formazione sul peccato, sul peccato originale e sulle ferite che portiamo. E quindi la visione antropologica dell'uomo come un esule, come uno che ha perduto la sua dignità, ha perduto il senso profondo della sua vita. E conduce alla tesi tutto il resto. Il matrimonio e tutto il resto. Nei miracoli. Signore, risuscita e ti dice, datemi da mangiare. L'eucarestia. E dopo il sacramento della penitenza e della riconciliazione. Certo che anche l'eucarestia perdona il peccato. Ma il Signore oggi ci prende per mano? Ci trascina fuori dalla morte e apre la porta. Ma quella porta sul cielo che vuol dire? Cosa vuol dire che a Pietro è stato dato il potere di sciogliere sulla terra perché si è sciolto in cielo? Cioè in cielo perché ogni parola, ogni gesto che Pietro fa ha una risonanza eterna, cioè nel cielo. È dentro un'eternità. Ha un valore eterno. Nulla è sciatto, nulla è superficiale, nulla è effimero. E che cos'è questo? Il perdono. Cioè ciò che ci scioglie dalla menzogna, ci scioglie dall'egoismo, dalla paura della morte. Per combattere la buona battaglia. Tutto quello che ha scritto San Paolo nella seconda lettura. Ed è bellissimo perché anche Pietro fa questa esperienza. Si aprono le porte del carcere dove siamo tutti noi. E dice, sembrava un sogno. E lo stesso è che dice il Salmo. Quando il Signore fece tornare i prigionieri dall'esilio, la nostra bocca si sciolse in canti di gioia. Ci sembrava di sognare. Perché sembra un sogno. E quando gli apostoli vedono Cristo risorto, sono tanto pieni di gioia, che gli sembra di sognare. Non è vero. Che cos'è questo? Ma davvero? Allora la porta è aperta. Allora è tutto chiuso. Cioè loro che stanno con la porta chiusa, per paura, vedono il Signore che passa attraverso la porta. Allora non è una porta fisica che si deve aprire, la porta del sepolcro. Se non che a tutti noi sarà la possibilità in Cristo di passare attraverso le porte. Cioè andare nel cuore del fratello e amarlo. Perché Cristo ha avuto il potere di entrare nel mio cuore. Oggi schiavo della paura della morte a causa del peccato. A causa della menzogna del demonio. A causa della mia superbia. Per cui così si deve fare. Questa sorella è così. Questo marito è così. Questo è peccato. Io, 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 al posto di Dio. Io sono colui che sono e non è vero. Allora oggi ritorno alla verità. Tu sei ebole, fragile. Tu sei Adamo e Eva. Ma io ti riprendo con me. Io ti riabbraccio, come abbraccio il figlio prodigo. Apro la porta della mia casa. Torna a casa. Torna a ciò che tu sei veramente. Io ti libero, io ti sciolgo. Questo significa credere nel cielo. Vivere qui, già nel cielo. Vivere qui, già la vita eterna, che gusteremo in pienezza, dopo che avremo lasciato questo mondo. La nostra vita è un ritorno a casa. Tu immagina, sei già un ragazzo, un bambino, e poi un ragazzo, un adolescente, e poi un giovane. Tu lo hai dovuto dire così. Mi è andato a vita, è un ritorno a casa. Allora non è, uh, devo laurearmi, devo andare in quel posto. È un inganno. È un inganno, gli stiamo ingannando a tutti. Perché non è vero, perché tu arriverai lì, farai le cose stupende e morirai. Arriverai per arrivare lì, calpesterai le persone, dimenticherai tuo padre, tua madre, dimenticherai i tuoi figli, dimenticherai tutto. Lo stress che porta i bambini, lasciare i bambini in macchina e morire. Non è vero, tu stai ritornando a casa. E dentro questo ritorno a casa, dentro questo cammino di purificazione, c'è lo studio, c'è il lavoro, come una missione. Cambiano completamente le prospettive. A noi è dato questo, la chiesa è questo. Allora, io sperimento ogni giorno, chiedo che mi apre la porta. Mi sono dimenticato, stavo con questo rancore, sordo con questa sorella. Sono perdonato, mi è stato aperto, mi riconcilio con la mia sorella. Cioè, ritorno nel cielo, cioè, ritorno a gustare il cielo. Perché che cosa c'è di più bello che perdonarsi? Niente, niente. E da quello apro la porta a tutti, a tutti. Non vedo più nessuno come un disgraziato, ma come un povero schiavo. Con paura, e per paura fai di tutto. Puoi fare le cose più terribili per paura. Dice la scrittura oggi. Allora, che il Signore ci conceda di vivere veramente con la gioia profonda, di vedere il cielo. Di stare già seduti alla destra del Padre. Di vivere questa vocazione enorme. Che non è una vocazione essere prechi suoi. Alla fine noi non siamo sposati, soprattutto per un fatto ministeriale, per non avere il cuore diviso. E dentro questo, siccome è così importante, facciamo presente che si può vivere senza essere sposati. Cioè, il cielo. Ma non perché siamo su per meno, perché abbiamo una vocazione particolare. Io veramente ogni volta di più, che vivo tanto accanto alle famiglie, dico, non posso dire nulla. Non posso lamentarmi di nulla in confronto a questi genitori che fanno molto, ma molto più di me. A livello fisico, a livello mentale, a livello di stress. Ma per favore. Un pochino di lotta nella ciccia, nella carne. O un po' di solitudine. Ma che cos'è in confronto alle preoccupazioni di notte, di giorno? E poi le preoccupazioni per i figli che non finiscono mai, perché dopo si sposano, sono più grandi. Che cosa? Allora, noi facciamo presente il cielo. Non perché non siamo sposati, siamo lì, belli, carini. No, perché per noi è così importante aprire le porte del cielo che non possiamo sposarci. Avremmo voluto, ci sarebbe piaciuto, ma abbiamo un'altra cosa da fare. È per quello. Allora, dopo abbiamo un'intimità con il Signore che ci aiuta, ci compensa. Il fondamento è il cielo. Per cui noi aiutiamo una famiglia, aiutiamo una vedova. E una vedova, una famiglia, aiutami a farmi presente il cielo. Tanto è vero che nella scrittura il cielo è un matrimonio, è un banchetto di nozze al quale tutti siamo chiamati a gioire. Oggi, anche possiamo vivere questa giornata calda, dicendo, Signore, mi sembra di sognare. Ma è vero. Ma io sono nato per questo, per questo amore, per questa libertà, per non avere questi rapporti malsani, morbosi, pieni di pregiudizi, di etrologie. Di vedere la persona così com'è, di vedere con amore, mamma mia, mi sembra di sognare. E lui ti dirà, ma questo è il cielo, già qui sulla terra. Un amore che non ha confini, che non ha limiti, oltre ogni barriera, oltre ogni porta, oltre ogni sepolcro.